Ok, allora l'obiettivo di questa prima ora e mezza, quindi fino a circa l'una, l'una meno cinque, è quello di fare un po' di esercizi il più possibile sulle possibili risposte alla domanda, alla seconda domanda che troverete nel compito che è la domanda sull'architettura dei calcolatori. Usando lo stesso meccanismo di ieri partiamo dal fondo, dalle ultime domande che sono quelle più recenti, che sono quelle che tendenzialmente sono state, sono comparsi nei compiti nello scorso anno, se poi volete andare a vedere le domande precedenti potete andare a ripescare dai miei video quelli dell'anno scorso dove avrò fatto ovviamente delle domande che erano i numerini più bassi perché erano quelli a loro volta dell'anno ancora precedente, così non duplichiamo risoluzioni di esercizi ma le aggiungiamo via via ogni anno all'insieme di esercizi totalmente risolti. Ok, bando alle ciance, partiamo quindi dal numero 50 che ci chiede di descrivere il ruolo dell'unità operativa e dei suoi componenti, ingrandiamo un pochino il testo e così riusciamo anche a ragionare sulla risposta insieme. Quindi la domanda numero 50 ci chiede di descrivere il ruolo dell'unità operativa. L'unità operativa ci chiede due cose, il ruolo e i componenti. Ok, quindi è più facile forse partire dai componenti, i componenti dell'unità operativa sono i registri, sono l'unità redimetricologica, logica, sono le unità in floating point, essenzialmente questi sono i componenti principali dell'unità operativa e registri tra cui il registro dei flag che è particolare perché ha un utilizzo particolare. Il ruolo dell'unità operativa è di eseguire le operazioni di lettura, scrittura, di calcolo aritmetico ordinate dall'unità di controllo e salvarne ovviamente i risultati. I dati e i risultati su cui lavora l'unità operativa sono memorizzati nei registri. Quindi è un'unità che è in grado di memorizzare alcuni dati locali nei registri e fare le operazioni di base, copia, trasferimento, somma, sottrazione della moltiplicazione su questi dati, sia che essi siano rappresentati, codificati come numeri interi e quindi userà l'unità redimetricologica intera, sia che siano rappresentati come numeri in floating point se, diciamo così, questa unità operativa comprende 1 o più unità in floating point. Questo è ciò che ci viene richiesto. Passiamo al 49, spiegate come si intende per il bus e quali sono le sue funzioni. Quindi numero 49, che cosa si intende col bus e quali sono le sue funzioni. Quindi il bus è un'infrastruttura condivisa di comunicazione tra diversi componenti del sistema di elaborazione. Cerchiamo di spiegare questa definizione qua. Infrastruttura in realtà sono dei fili, dei connettori, sono fili, connettori, internessioni, eccetera. Condivisa nel senso che esiste un'unica gruppo di connessioni a cui fanno riferimento, a cui fanno capo tutti i componenti. E quali sono questi componenti? questi componenti interessati sono per prima la CPU, poi la memoria centrale e poi ci sono le periferiche, le varie periferiche. Ovviamente poi ci sono le memorie cache, tutti i componenti che fanno parte direttamente del contenuto della scheda MAD, del sistema di elaborazione propriamente detto. Come periferiche intendo, scusatemi, le interfacce per le periferiche. Quindi la tastiera e il disco non vanno direttamente a collegarsi sul bus, ma si collegano a un'interfaccia la quale da un lato vede la periferica vera e propria e dall'altro, diciamo così, salva il bus, si connetta al bus. Il bus, quindi il bus serve per, mi ci chiede anche la domanda, le sue funzioni, ok? Qui non solamente che cosa si intende. Si intende quella di infrastruttura lì e io ho cercato di delineare la definizione dei vari termini che compaiono nella definizione. Serve per trasferire i dati tra una qualunque coppia di componenti, come abbiamo chiamato i primi componenti, diciamo così, uno per volta, in certo senso, visto che la struttura è condivisa, ci può avvenire un trasferimento solo per volta, sempre sotto il controllo della unità di controllo, della CPU, perché è lei che decide quale trasferimento deve avvenire in qualunque momento. Quindi l'unità di controllo che prima abbiamo detto in un'altra domanda, che comanda l'unità operativa, in realtà comanda anche i trasferimenti sul bus. Il bus poi è composto, si divide in tre sottostrutture che sono l'address bus che serve per trasmettere l'indirizzo della cella di memoria o dell'unità periferica, da leggere o scrivere, il bus dei dati che trasferisce il dato che viene trasferito da un componente ad un altro componente. Quali siano questi componenti lo decide l'indirizzo, se vogliamo possiamo aggiungerlo sulla base dell'indirizzo, si capisce quale componente è coinvolto. E poi l'ultimo pezzo è il bus di controllo, che sono dei fili che gestiscono segnali, una serie di segnali che gestiscono la temporizzazione dell'attività, quindi il clock del bus, che è il clock che governa i cicli di bus, che non è lo stesso clock della CPU, tendenzialmente è molto più lento, chiaramente per trasferire dati su lunghezze maggiori e che coinvolgono componenti più lenti, ci sarà il segnale di lettura e scrittura, lo stato di operazione è terminata, ricordate che parlavamo della memoria che è molto più lenta della CPU, quindi quando io scrivo un dato in memoria, quando lo leggo, devo aspettare che il dato sia disponibile e la memoria può impiegarci molto tempo per poter rispondere, quindi in qualche modo c'è un segnale che mi dice ok, io ho il dato alla fine, sono riuscito a leggere, non ce l'ho pronto, eccetera. Altri segnali di controllo che servono per mettere d'accordo i vari componenti su chi deve agire, quando deve farlo e quando ha finito, quando il bus è occupato, quando è libero e cose di questo genere. Diciamo che siamo andati anche un po' oltre quello che chiedeva strettamente la domanda, ma già che ci siamo, abbiamo un pochino cercato di completare la presentazione. Domanda successiva, numero 48, cosa sono i program counter e l'instructional register, dove si trovano e che ruolo hanno nel meccanismo di esecuzione delle istruzioni? Domanda 48 parla del program counter e l'instructional register, di cui è qua indicato sia la sigla che anche il nome per estero, per fortuna nel caso di cui non ci ricordassimo esattamente cosa rappresenta la sigla. Allora, innanzitutto dove si trovano? Si trovano nell'unità di controllo della CPU, quindi l'unità di controllo e l'unità operativa, i program counter e l'instructional register stanno nell'unità di controllo. il program counter contiene l'indirizzo di memoria della prossima istruzione che la CPU dovrà eseguire. Mentre, quindi io so che il programma è arrivato fino a questo punto, il program counter ha l'indirizzo 3201 e quindi vuol dire che ho eseguito già l'istruzione 3200 e dovrò eseguire l'istruzione 3201. Mentre l'instructional register contiene la codifica binaria letta dalla memoria all'indirizzo indicato dal program counter dell'istruzione da eseguire. Quindi se il program counter mi dice che la prossima istruzione è alla riga all'indirizzo 3201, l'instructional register mi dice che quell'istruzione codificata in binario 10111101 vorrà dire che devo sommare due registri, ad esempio, insomma registro 1 più registro 2 e mette il risultato del registro 1 per implementarne una. Questo ovviamente descrizione codificata in binario con una codifica che dipende da come è costruita ogni singolo microprocessore che si trova nella documentazione del processore ed è il contenuto vero e proprio del programma che sta eseguendo. Dove si trovano? Che ruolo hanno? Il meccanismo di esecuzione delle istruzioni e quindi diciamo così la combinazione di program counter e instruction register permettono al programma, alla CPU di reperire una dopo l'altra tutte le istruzioni che compongono il programma da eseguire. Perché grazie al loro meccanismo non riesco a prendere dalla memoria uno per volta le istruzioni che devono essere eseguite, portarle dentro la CPU e quindi poi fare in modo che le operazioni relative vengano eseguite dall'unità operativa. Questi qua gestiscono tutta la fase di fetch, decode, execute ma magari ne parleremo, ci sarà probabilmente qualche domanda più avanti specifica sulle tre fasi, quindi qui non mi sembra il caso di approfondire ulteriormente su questa domanda. 47, io come sempre vado avanti se non vedo domande, quindi non fatevi problemi se ci sono dei dubbi, altrimenti andiamo avanti così riusciamo a risolvere un certo numero di domande. Il numero 47 è calcolare la massima dimensione di memoria allocabile in un sistema con address base di 24 bit, allora questo me lo segno, e parallelismo di 16 byte. Esprime il risultato nel massimo multiplo di byte possibile, mantenendo il valore comunque maggiore o uguale a 1, qui mi dice solamente come devo esprimere il risultato. Quindi no, se il risultato in megabyte è frazionario, mi dice esprimere il risultato in kilobyte, se invece il risultato in kilobyte superasse il mille, il mille e 24 kilobyte, allora rappresentano il megabyte, ma questo è solamente poi come riprontiamo il risultato. Il calcolo cosa mi dice? La massima quantità di memoria allocabile, che mai potrai concepire ed installare dentro quel sistema di elaborazione. Allora, cosa mi dice? mi dice che ho un sistema che ha un address base di 24 bit, quindi un address base di 24 bit significa che ogni indirizzo di memoria è un intero su 24 bit, ok? E quindi vuol dire quanti indirizzi di memoria potrò avere, potrò avere fino a 2 alla 24 celle di memoria massime, poi magari non ce ne ho installate una memoria che abbia 2 alla 24 celle, ne avrò installate di meno, forse, non lo sappiamo, ma più di 2 alla 24 sarebbe anche inutile installarle perché la CPU non avrebbe modo di poterle indirizzarle, non avrebbe modo di poter dire mi serve quella cella lì perché il massimo numero di celle che può indirizzare dipende dal massimo numero di combinazioni binarie che sono permesse negli indirizzi che viaggiano dalla CPU alla memoria appunto sul base. Dopodiché ogni cella, ciascuna cella, mi dice che vale 16 bit, contiene 16 bit, cioè 2 byte, quindi vuol dire che la quantità di memoria massima, che cos'è? È data dal massimo numero numero di celle per dimensione di una cella, di ciascuna cella di memoria e quindi nel nostro caso il massimo numero di celle, abbiamo detto che è 2 alla 24 per 2 se ragioniamo in byte, quindi alla fine fa 2 alla 25 byte. Questa è la quantità di memoria massima che posso indirizzare di esprimere in byte, ma chiaramente esprimere in byte e non in bit, facciamo solo attenzione se ci chiede il risultato in byte oppure in bit, chiaramente c'è un fattore 8, c'è un fattore 2 alla terza che li divide. Quindi 2 alla 25 byte che cos'è? Allora 2 alla 25 byte sono 2 alla 25 byte, se vado avanti con l'uguaglianza, uguale 2 alla 20 per 2 alla 5, anzi scriviamo 2 alla 5 per 2 alla 20, più sensato, byte, quindi facciamo il passaggio a capo, questo qui è così, questo è così, 2 alla 5 per 2 alla 20 byte, l'ho scritto così perché 2 alla 20 è un megabyte, un milione, 2 alla 10 è un k, 2 alla 20 è un mega, 2 alla 30 è un giga, quindi in realtà stiamo scrivendo 32, 2 alla quinta, megabyte e questa è la quantità di memoria massima che posso scrivere. Non la potrei scrivere come gigabyte, perché dovessi scriverla come gigabyte dovrei avere 2 alla 30 qui e quindi per avere quel valore lì dovrei avere 2 alla meno 5, quindi sarebbe un 32esimo di gigabyte, ma lui mi chiede scrivimelo in forma intera. Vedo la domanda sul parallelismo, si parla di parallelismo di 16 byte, che ci dice il testo, il parallelismo normalmente si intende come numero di fili paralleli, numero di bit paralleli su cui si può lavorare, quindi normalmente si intende il parallelismo dell'interno all'Alu o alla FPU, ma principalmente all'Alu, si intende il parallelismo dei registri, della unità operativa, si intende il parallelismo delle cellule di memoria e si intende il parallelismo del data bus. Questi sono tutti i casi in cui si può applicare il concetto di parallelismo, cioè o una serie di bit insieme, un registro contiene 16 byte, eccetera, ok? Normalmente su un sistema ben dimensionato tutti questi valori sono uguali, quindi la dimensione del registro è uguale alla dimensione della cellula di memoria, che è uguale alla dimensione dell'Altres Bus e cose di questo genere, quanto per chiarire il parallelismo. La domanda però mi pone anche, giustamente, attenzione che io ho fatto il calcolo dicendo che ciascuna cellula contiene 16 bit, cioè 2 byte, perché ho letto male il testo, probabilmente perché ho letto 16 bit, mentre in realtà sono 16 byte, quindi scusatemi, devo correggermi perché normalmente il parallelismo non è mai così alto come 16 byte, però quindi sono deformato dallo significato dell'esercizio, quindi qua, scusate, devo correggere un attimo, ciascuna delle celle contiene 16 byte, non è 16 bit, quindi 16 byte sono già l'oro, quindi qui non è 2 ma è 16, quindi 16 è 2 alla quarta, quindi facciamo 16 su 2 alla quarta, quindi è questo 2 alla 28, 2 alla 28 divido come 2 alla 8 per 2 alla 20 e quindi non sono 32 ma sono 256, scusate, il risultato che devo dare è 8 volte più grande di quello precedente perché effettivamente il testo parlava di parallelismo di byte, 16 byte e non 16 bit come avevo erroneamente scritto prima, scusate per la svista e grazie per la precisazione. Ok, andiamo avanti, 46, quali sono le funzioni dell'Alu? Numero 46, vedete che alcune domande sono di tipo più teorico, descrittivo, altre domande invece sono più di calcolo. Le domande di calcolo, scusate finisco ancora questo, alla fine si basano molto spesso su questa, quando parlo di dimensione di memoria abbiamo questa formula qua che ci dice che la memoria massima, totalmente, possibilmente installabile dentro un sistema di elaborazione è data dalla dimensione dell'address bus come potenza del 2 moltiplicato, il parallelismo delle celle di memoria che praticamente coincide con il data bus. Quindi su questa formuletta qua si giocano molti esercizi, bisogna sempre fare attenzione se è bit o byte, l'unità di misura eccetera, però mi dice che il numero di byte totale che posso avere non può superare il numero di celle massime e moltiplicato per il numero di bit o byte che contiene ciascuna cella. Ok, quali sono le funzioni dell'alu? Diceva la domanda 46, le funzioni dell'alu è un circuito in grado di calcolare tutte le operazioni possibili sui numeri interi, tipicamente in complemento a 2, ma complemento a 2 o anche binario puro sappiamo che le operazioni sono uguali. Quindi quali sono queste operazioni? Sono somme, sottrazioni, moltiplicazioni, talvolta divisioni, magari non sempre a volte, e modulo. I processori da PC, da computer sicuramente hanno istituzione per fare divisioni, microcontrollori più piccoli nelle schede che sono Arduino o cose di questo genere, non hanno la divisione normalmente, ce l'hanno in floating point ma non tra numeri interi, poi cosa possono fare queste cose qua? Possono fare confronti, possono fare operazioni booleane sui bit, quindi AND, OR, NOT e poco altro essenzialmente. Questi sono il tipo di operazioni, una manciata di operazioni che ha senso fare sui numeri interi e l'unità di metodologica è un circuito che prende in ingresso, quindi le operazioni sono svolte prendendo in ingresso i valori dai registri e depositando il risultato in un altro registro, contemporaneamente aggiornando anche il registro di flag. Il registro di flag contiene le informazioni sul fatto che il risultato dell'operazione abbia dato un overflow, sia stato positivo, negativo, abbia generato un riporto, tutte le informazioni collaterali sull'esecuzione dell'operazione stessa. Ci chiedeva altro le funzioni dell'Alu, esenzialmente sono queste, diciamo così. Fare operazioni, prende i valori dei registri, fa l'operazione e salva il risultato. Quale operazione deve fare e da dove la prende e dove deve mettere il risultato, ovviamente l'Alu non lo sa ma lo riceve come comando dall'unità di controllo. Scriviamo ancora, l'operazione svolta dall'Alu e i registri coinvolti sono decisi dall'unità di controllo. E l'Alu semplicemente esegue l'ordine che ha ricevuto. Ok, la domanda 45 è esattamente uguale alla 46, quindi 46 e 45 sono la stessa. E' stato probabilmente un momento di pigrizia quando facciamo il copy and call dei compiti. Domanda 44. Domanda 44. Ci chiede di parlare del concetto di gerarchia della memoria. Ok? Allora, la gerarchia della memoria, o gerarchia delle memorie, possiamo scrivere in entrambi i modi, indica che cosa? Indica il fatto che all'interno del sistema di elaborazione ci sono molti tipi di memorie che sono collegate tra di loro in un modo ben preciso. Di fatto l'idea è che ci sono in un sistema di elaborazione, ci sono varie tipologie di memorie che variano in funzione della velocità di accesso, del loro costo, della capienza o capacità, e della persistenza. Persistenza vuol dire la capacità di non perdere i dati quando manca la corrente. Quindi le uniche memorie persistenti sono le cosiddette memorie di massa, quindi dischi, dischi allo stato solido, dischi rotanti, chiavette USB, eccetera, eccetera. Allora, normalmente, diciamo così, all'aumentare della velocità aumentano i costi e quindi diminuiscono la capienza. Cioè, dobbiamo mettere di memorie veloci, ne possiamo mettere di meno perché costano di più. Questo è un altro modo di dire questa frase. Allora, questa è un'affermazione generale. Ci sono tante memorie di tipi diversi. Queste memorie lavorano insieme, ok? Normalmente cosa succede? Nel sistema di elaborazione si mettono più vicine alla CPU, diciamo così, si organizzano una catena, diciamo così, di memorie, partendo da quelle più veloci, che sono poste vicine alla CPU, perché la CPU è il componente più veloce e il componente più importante, quindi ha bisogno, quando legge e scrive i dati, di avere le memorie che rispondano alla sua stessa velocità, costantemente. ed allontanandosi, memorie, via via, più capienti e più lente. Quindi, la CPU lavora su una memoria veloce come lui, come lei, quando non gli basta la quantità di memoria che ha localmente, adesso gli diamo anche un nome, perché l'ha esaurita, userà una memoria che è un pochino più lenta, ma è più capiente. E poi, anche quando quest'altra sarà piena, userà una memoria ancora più grande, ancora più lenta e così via. Per questo si parla di gerarchia, memorie che ciascuna è in grado di memorizzare una quantità di dati maggiore, ma è più lenta rispetto alla precedente, quindi la useremo solo quando quella precedente è già vuota, oppure eventualmente ci salviamo da una memoria più veloce, salviamo in quella più lenta dei dati che non usiamo più, per poter liberare spazio in quella più veloce, in modo da poterla utilizzare per lavorare su dei dati nuovi, ad esempio. Un esempio di gerarchia, partendo dalla CPU, la memoria più vicina di tutta la CPU e più veloce di tutte sono i registri interni dell'unità operativa. poi abbiamo la memoria di cache, non si chiama memoria perché sono tutte memorie, cache di primo livello, tipicamente è una memoria che sta direttamente sullo stesso circuito integrato della CPU, poi abbiamo spesso una cache di secondo livello, senza l'h, cache di secondo livello, che invece sta sulla scheda madre, non sul processore, poi abbiamo la memoria principale, le memorie cache ovviamente non sono altro che sono una finestra ad alta velocità sugli dati della memoria principale, non hanno dati di per sé le memorie cache, ma semplicemente gestiscono una copia veloce dei dati che già ci sono in memoria principale, poi tipicamente possono essere le memorie di massa, magari abbiamo un disco SSD, se avete un computer un SSD non è tanto grande, ma magari abbiamo anche un hard disk che è molto più grande, quindi salviamo alcune cose sull'hard disk che ci servono di meno, mentre invece sull'SSD le cose che ci servono di più. Il motivo per cui c'è questa cosa è tutta una conseguenza di quello che avevamo detto qua, la memoria veloce costa di più, di conseguenza ne devo mettere di meno, di conseguenza devo ingegnarmi per far sì di avere delle memorie sufficientemente veloci per poter lavorare con la CPU e sufficientemente capienti per memorizzare tutti i dati che mi servono e in mezzo trasferirò dei dati in funzione di ciò che mi serve in questo momento. Ok, questo grosso modo ci dà un'idea di che cosa sia questa gerarchia della memoria. Domanda 43, spiegare che cosa sono e che cosa servono i bus e domanda 42, quali sono le funzioni dei bus, mi sembra che siano abbastanza un doppione, 42-43, della domanda che avevamo già fatto all'inizio, la 49, quindi vi direi che questa è neanche la risposta alla 43 e anche la numero 42. Ok, quindi non starei a ripetere le stesse cose, risponderei nello stesso modo. Le funzioni di base l'abbiamo detto, no, vi ricordate quando ho detto, quando ho fatto questa domanda ho scritto più di quanto fosse necessario, ma perché in realtà, dato una risposta completa, le funzionalità del trasferimento dati le avevamo spiegate, quali tipi di base esistono le avevamo spiegato, alla domanda 49, anche se la 49 da sola non chiedeva tutte queste cose, però le abbiamo spiegate una volta per tutte e poi riusciamo per le varie domande i pezzi di quella risposta, se vogliamo. Domanda 41, che cos'è la RAM e che cosa serve? Allora andiamo in fondo, scrive domanda 41, che cos'è la RAM e a che cosa serve? Quindi la RAM è la memoria centrale dell'interlaborazione, del computer, del laboratorio, stiamo così. quindi, tecnicamente, no, o etimologicamente, il RAM stava per random access memory, che vuole dire che è una memoria che può essere letta o scritta indifferentemente in qualunque cella di memoria, no, poi di fatto è un tipo di tecnologia che viene usata per costruire queste memorie. Poi, di fatto, questo tipo di tecnologie viene usata principalmente o quasi esclusivamente per la memoria centrale, ok? Quella che prima abbiamo chiamato la memoria centrale. Adesso, in realtà, si hanno delle memorie particolari, si chiamano a volte DRAM, per dire che sono RAM dinamiche, a volte le chiamano DDR, memory dynamic data range, eccetera, ovviamente la tecnologia evolve, sono delle sigle in più che ci dicono che queste memorie funzionano in modo non più evoluto, hanno delle funzionalità in più, delle accelerazioni in più, eccetera, eccetera. Ma si continua ancora a usare la sigla RAM delle prime memorie per comodità, perché a questo punto diciamo, ormai è diventato un sinonimo di memoria centrale, indipendentemente poi dalla tecnologia con cui è utilizzata. Mi chiede a che cosa serve? A che cosa serve? La memoria RAM contiene tre cose fondamentali. Il programma da eseguire, i dati su cui il programma di input al programma e i risultati, conterrà anche i risultati calcolati dal programma. Quindi, tutto ciò che la CPU può vedere è tutto solo al contenuto della memoria RAM. La CPU ha accesso diretto alla RAM, ai contenuti della RAM. Se la CPU o il programma deve accedere a dati diversi, dovrà prima leggere, che sono scritti su disco, deve prima leggere su disco e salvarli in RAM. Vi ricordate che con l'operazione che facciamo quando apriamo un file e lo leggiamo, si trasferiscono dei dati dal disco alle strutture dati interne nel programma, cioè alla memoria RAM, alla memoria centrale. E quindi è fondamentale per l'esecuzione dei programmi. Senza memoria RAM un programma non si potrebbe eseguire, perché anche il programma stesso, i codici operativi delle istruzioni da eseguire, si stanno nel programma, che sono quelle che poi sono lette dal program counter di cui parlavamo prima. 41. Domanda 40. Descrivere il concetto di ciclo macchina esplicitandone le varie fasi. Allora che cos'è il ciclo macchina? Il ciclo macchina è un ciclo infinito in cui è intrappolata l'unità di controllo, che per tutta la sua vita utile continua a fare esattamente le stesse cose ripetendone all'infinito. Quindi è il ciclo ripetuto all'infinito con cui la CPU esegue le istruzioni dei programmi e costituisce da tre principali fasi. La prima fase è quella di fetch, la seconda fase è quella di decode, la terza fase è quella di execute. Nella fase di fetch cosa avviene? Che la CPU e in particolare la unità di controllo, legge la prossima istruzione a eseguire dalla memoria. Quindi quello che fa è prende la memoria, chiede alla memoria di poter leggere la cella il cui indirizzo è nel proprio program counter, il program counter ricordiamo che era la unità di controllo e questo dato lo mette dentro l'instruction register, il dato letto dalla memoria. Dopodiché tipicamente incrementa il program counter, quindi salva dentro il program counter un valore incrementato in modo da prepararsi per poter leggere la prossima istruzione. Quindi questa fase di fetch permette di dire io so che il program counter mi dice che la prossima istruzione è all'indirizzo 3201 dicevamo prima, come è fatta questa istruzione? Ok chiediamo la memoria, dammi il contenuto di quella cella e salviamo nell'instruction register questo valore. Fino a quando non mi arriva questo valore e fino a quando non lo salvo in un registro non potrò fare null'altro perché non so cosa devo fare, perché è l'istruzione che mi dice cosa devo fare. E infatti nella seconda fase la decodifica sempre la CPU nella persona dell'unità di controllo in particolare legge il valore dell'instruction register appena letto, appena ricevuto, lo analizza e capisce, metto tra virgolette capisce perché è un pezzo di ferro, non è che possa capire, quali siano le operazioni da fare, da svolgere. Cosa vuol dire capisce? Vuol dire che l'istruzione è semplicemente una sequenza di bit, 1 1 0 1 0 0 e ci sarà una circuiteria interna all'unità di controllo che va a vedere certi bit e allora capirà se sono, in funzione di come sono codificati questi bit, quindi di come è stato progettato il processore, capirà se devo fare un'operazione di scrittura, di lettura, di somma, di sottrazione, di moltiplicazione, di salto, di confronto eccetera eccetera. Quindi tra tutte le operazioni che possono essere fatte vengono codificate in un codice binario diverso e poi ciascuna operazione all'interno del codice binario ci sarà anche scritto da quale registro leggere, in quale registro scrivere eccetera eccetera. Questo è tutto però molto compattato in pochi bit, perché l'istruzione deve essere codificata in modo compatto. La decodifica va a estrarre da questi pochi bit che sono il codice operativo dell'istruzione, le operazioni da fare, le operazioni che devono essere svolte per poter eseguire ciò che quell'istruzione ci chiede di fare. Questa decodifica capisce qualsiasi operazioni da svolgere, anzi direi meglio da fare svolgere alle altre componenti, alle diverse componenti del sistema, perché ovviamente l'unità di controllo lei non svolge nulla, però capisce chi deve fare che cosa e quindi capisce quali comandi deve mandare a quali unità. e quindi la fase di esecuzione è proprio la fase nella quale la CPU, anzi la unità di controllo, siamo più espliciti, ha inviato i comandi derivanti dall'operazione di decodifica che era il punto precedente, alle unità operative, alla memoria e alle altre componenti coinvolte, se ce ne sono altre componenti coinvolte, e tutte queste componenti, unità operativa, memoria e altre componenti coinvolte, queste svolgono, eseguono, per quello si chiama file di esecuzione, i comandi ricevuti, mentre la unità di controllo attende il loro completamento. quindi questa è la fase di esecuzione che coinvolge, diciamo così, le unità più operative, di memorizzazione, di calcolo e l'unità di controllo ormai il suo lavoro l'ha finito. quando è finita l'esecuzione dell'istruzione, si ricomincia con la fase di fetch, di che cosa? dell'istruzione successiva, perché nel frattempo avevo incrementato di 1 il program counter, e quindi l'istruzione che leggerò non è più la stessa di prima, ma è quella successiva, è quella che viene subito dopo. Quindi questo ciclo macchina è un ciclo che si ripete e al termine del quale ho eseguito un'istruzione, poi ripeto il ciclo per eseguire l'istruzione successiva e così via. Si chiama ciclo macchina o ciclo di esecuzione delle istruzioni a volte, alla fine di questo stiamo parlando. Ok, passiamo alla domanda 39, qual è la funzione del memoria principale o memoria primaria di un calcolatore? Questa qua è esattamente la stessa domanda formulata con parole diverse della 31, perché la memoria centrale è di fatto la memoria RAM, quindi la risposta da 39 la mettiamo, la aggreghiamo alla risposta alla domanda 41, quindi 39 va bene uguale. Scusate, c'è un rumore di trapano qua vicino, spero che non lo sentiate. Ok, invece 38, spiegare che cosa servono i bus e quale tipo di bus esistono, anche questa qua l'abbiamo già data, quindi quella sui bus è anche la 38, poi abbiamo la 37, quali sono le funzioni dell'unità di controllo, questa invece è nuova, almeno a noi in questi termini, ovviamente va a riprendere varie cose che abbiamo già detto, quindi le funzioni dell'unità di controllo, l'unità di controllo alla fine ha lo scopo, quindi innanzitutto è all'interno della CPU, è una delle due componenti della CPU, la CPU è unità di controllo, unità operativa, magari memoria cache o poca altra roba a bordo, è all'unità dell'interno della CPU e ha essenzialmente lo scopo principale di controllare l'esecuzione delle istruzioni, l'esecuzione dei programmi gestendo il ciclo di esecuzione delle istruzioni. Quindi quel ciclo Fast the Code Execute è il compito primario dell'unità di controllo, invia i comandi a tutti i componenti di sistema, riceve le informazioni di stato da tutti i componenti di sistema. Le informazioni di stato gli dicono se una certa operazione è già terminata oppure no, ricordate il segnale di base di controllo, gli dicono se una certa operazione aritmetica è andata a buon fine, ricordate il registro dei flag, soprattutto le informazioni che ritornano all'unità di controllo e servono all'unità di controllo per poter decidere qual è l'operazione da fare successivamente. Quindi lei mantiene la sequenza di operazioni che ciascun componente del sistema deve fare e anche l'ordine e la temporizzazione che gestisce anche la temporizzazione delle varie operazioni. E in una certa misura è dell'accesso al bus anche. Perché è lei che dice, guarda tu memoria, prendi questo dato, mando all'unità operativa usando il bus e quindi il fatto che questo bus venga usato in questo momento per quel trasferimento viene deciso dall'unità di controllo. Viene comandato dall'unità di controllo, in realtà viene deciso a molte da che cosa? Dall'istruzione macchina che ho appena letto dalla memoria. Quindi chi comanda tutto ovviamente è il software. Poi operativamente quel software, quell'istruzione software viene tradotta in singoli comandi che poi i componenti fisiche e elettroniche vanno ad eseguire. Quindi questo qua, quando parliamo di gestire il ciclo di esecuzione dell'istruzione, facciamo riferimento al ciclo di fetch del codec execute di prima, in tutti i componenti del sistema ci viene in mente quello quanto abbiamo detto prima a proposito dell'unità operativa, a proposito del ruolo della memoria. Di fatto abbiamo un'unica immagine di come funziona un sistema, di come è fatto un sistema. Qui queste varie domande ci stanno andando a chiedere di zoomare su un aspetto piuttosto che un altro e quasi tutte ci chiedono come è fatto e come funziona. Cioè quali sono i componenti, come sono collegati tra loro e come lavorano poi nell'esecuzione dell'operazione, a che cosa servono e come lavorano. Quindi sono sfumature diverse di domande che vanno a insistere essenzialmente sullo schema di funzionamento del sistema di lavoratore. Ok, 36, facciamo due conticini. La memoria RAM di un sistema di lavorazione ha un parallelismo di 8 bit, questa volta bit, non mi sbaglio più. Avendo a disposizione 1024 celle di memoria, quanti numeri rappresentati in virgola mobile in doppia precisione è possibile memorizzare in tali celle? Allora, abbiamo detto, numero 36, mi scrivo i dati, che abbiamo una RAM da 8 bit, poi avendo a disposizione 1024 celle di memoria, quindi 1024 celle di memoria, da 8 bit ciascuna ovviamente, quindi alla fine è 1024 byte, poi mi chiede di memorizzare i numeri in doppia precisione. Allora, se mi ricordo bene, la doppia precisione è in floating point, quindi in floating point. In floating point le codifiche standard sono, mettiamolo tra parentesi, la singola precisione sono 32 bit, la doppia precisione sono 64 bit, per codificare un numero in floating point. Sono state standardizzate queste due dimensioni, poi in alcuni casi particolari ci usano anche dimensioni diverse, ma questi sono i due valori standard, essenzialmente. Quando in python usiamo un float, lo stiamo definendo in doppia precisione. In C si chiama double, mentre la variabile che si chiama float, in C invece è un single precision. Nel stesso caso si parla specialmente di doppia precisione, quindi ogni numero occupa ovviamente 64 bit, che, misurandolo in byte, sono 8 byte. 8 per 8, 64. Quindi se io ho una RAM da 1024 byte, quindi avrò quanti numeri potrò avere? 1024 byte perché abbiamo 1024 celle, e ciascuna cella è da 8 bit, cioè 1 byte. E quindi potrò avere quanti numeri memorizzabili? Sono 1024 byte, che è la capienza della memoria, diviso 8 byte, che è la dimensione di ciascun dato. Quanto fa 1024 diviso 8? Allora devo dividere per 2, devo dividere 3 volte per 2, quindi 24, 512, 256, 128, 128 numeri. A livello di scrittura, bit e byte, o li scriviamo per esteso, bit e byte, oppure se li abbreviamo, il byte si abbrevia con la B maiuscola, e il bit invece si abbrevia con la B minuscola. Ok, quindi 8 bit sarebbero 8B, 8 bit, oppure un byte. B minuscola indica bit, B maiuscola indica byte, e il fattore di conversione tra bit e byte è 8. 8 bit fanno un byte. Quindi facciamo anche attenzione a indicare correttamente l'unità di misura. Ok, questo era il numero 36. Spiegare perché in un sistema di elaborazione è presente una girarchia di memoria, l'abbiamo già detto. Nella domanda, domanda questa qua lunga, lunga, la 44, che quindi vale anche per la 35. E quindi abbiamo vinto la possibilità di fare domanda 34. domanda 34 è qual è il ruolo della floating point unit in una CPU? Qual è il ruolo della floating point unit in una CPU? Allora, prima ci aveva chiesto che cos'era l'unità operativa nella CPU, adesso ci chiede un dettaglio sull'unità operativa che era la floating point unit. Quindi la floating point unit è un componente dell'unità operativa dedicato al calcolo di operazioni tra operandi in virgola mobile. Singola precisione, doppia precisione, dipende, se ha un parallelismo di 32 bit saprà lavorare solamente su numeri in singola precisione, se ha un parallelismo di 64 bit potrà lavorare anche e quindi calcolare le operazioni diciamo fondamentali anche su numeri in doppia precisione. Quindi ovviamente esegui queste operazioni quali possono essere? Quali sono le aritmetiche? Quindi le aritmetiche possono di solito comprendere anche potenze e radici, quindi radice quadrata, radice cubica, potenza, elevamento potenza, esponenziali, trigonometiche e giù di lì quindi sono operazioni le normali funzioni dell'algebra dei numeri reali essenzialmente esegui queste operazioni tra i valori nei registri su ordine dell'unità di controllo. Di fatto si distingue dalla dalle alu che fa le stesse cose che ha lo stesso scopo ma lavora sui numeri interi. fare un'operazione su un numero in complemento 2 e fare un'operazione su un numero in floating point sono completamente diverse perché la codifica è talmente diversa che servono due circuiti due circuiterie che non hanno praticamente quasi nulla a che spartire l'uno con l'altro e quindi all'interno dell'unità operativa ci sono sia delle unità di calcolo per numeri interi e le chiamiamo alu per motivi storici unità aritmetico-logiche e sia delle FPU che servono invece per lavorare per fare operazioni tra numeri in virgola mobile quando nel programma ci sono delle istruzioni per lavorare con i numeri in virgola mobile. Ci ricordiamo che normalmente il tempo necessario per svolgere un'operazione in virgola mobile è decisamente superiore a volte vedete scritto 20 volte a volte 50 volte a volte 10 volte però per dire non vi do un numero perché poi questo numero dipende da mille fattori però è sicuramente un'operazione più lenta rispetto ad un'operazione tra numeri interi quindi quando è possibile lavoriamo con interi quando invece ci servono i numeri reali usiamo i numeri reali ovviamente sapendo che qualunque operazione fatta su numeri reali è più lenta della stessa operazione di un'operazione analoga fatta con i numeri interi se però i miei dati sono reali non c'è niente da fare non è che posso far finta di nulla quindi questo è il ruolo della Floyd Point Unit in una CPU domanda numero 33 è una domanda sulle funzioni booleane numero 33 quindi un po' a cavallo tra quelle che sono le architetture e la numerazione in un certo senso perché è anche un po' a cavallo con le cose che abbiamo imparato a livello di programmazione però ci dice date due funzioni booleane FG verificare dimostrare l'eventuale equivalenza logica allora lui mi dice prima scriviamo le cose poi cerchiamo di capire cosa vuol dire abbiamo due funzioni descritte così e lui mi dice sono equivalenti dal punto di vista logico quindi è vero che F equivalenti vuol dire che è vero che il valore calcolato dalla funzione F sia uguale al valore calcolato dalla funzione G per ogni combinazione di A B e C questa è la domanda che sta facendo cioè due funzioni sono equivalenti se per qualunque valore dei propri argomenti mi danno sempre lo stesso risultato allora vuol dire che posso sostituire una al posto dell'altra come faccio a rispondere a questa domanda beh in realtà avrei due possibilità una è agire per via algebrica quindi fare dei passaggi per vedere se sono uguali o no l'altra sarebbe quella invece di agire per via diciamo così numerica allora per via algebrica no non lo facciamo perché semplicemente perché non abbiamo imparato l'algebra booleana quindi non abbiamo imparato i modi di usare le espressioni che non sono gli stessi dell'algebra ordinaria ok e quindi non non lo sapremo fare si potrebbe fare ma noi con le cose che abbiamo imparato non lo sappiamo fare per via numerica cosa vuol dire per via numerica vuol dire che posso generare ogni possibile combinazione di A B C e se A B C fosse un numero reale non me lo sognerei nemmeno perché come faccio a generare ogni possibile combinazione di numeri reali ma nel caso di numeri di variabili booleane A B C possono assumere solamente il valore 0 e 1 e quindi ogni possibile combinazione alla fine stiamo parlando di 8 combinazioni tutte le combinazioni di 3 valori di 3 bit e potremmo dire per ciascun valore di A B C ok che potrebbe essere 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 e ho già scritto i 4 sono già metà 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ho scritto i numeri tra 0 e 7 in binario per ciascuna di queste combinazioni mi chiedo quanto vale F e quanto vale G e scrivo quanto vale F quando A B C sono 0 eccetera eccetera avrò una colonna con i valori di F a fianco una colonna con i valori di G e se queste due colonne sono uguali abbiamo dimostrato che per ogni valore di A B C il valore di F è uguale al valore di G se invece ci fosse almeno una riga in cui la colonna di F è diversa dalla colonna di G allora abbiamo dimostrato che non sono equivalenti perché non è vero che ogni combinazione di A B C mi dia lo stesso valore che esiste almeno una combinazione diversa e come faccio a scrivere queste cose vabbè vado a vedere questa espressione qua nel caso in cui A B e C siano tutti 0 quanto vale? vale A 0 OR qui la moltiplicazione è l'AND che ha precedenza sulla addizione che sarebbe l'OR quindi qui abbiamo 0 AND 0 che fa 0 il tutto OR 0 che fa 0 il NOT fa 1 il NOT fa 1 OR qualche cosa altro ma 1 OR qualcosa fa sempre 1 quindi io qua sono sicuro che qui ci sia un 1 la stessa cosa faccio su G allora A B e C valgono tutti 3 0 quindi ho 0 AND 0 OR 0 quindi 0 OR 0 falso OR falso fa falso 0 AND 0 fa ancora 0 poi ho un NOT A quindi A vale 0 ma il NOT A vale 1 vale vero quindi avrò qua 0 nella prima parentesi e 1 nell'altra parte 0 OR 1 fa 1 ok quindi in questo caso sulla prima riga vedo che F e G sono uguali e posso andare avanti così sostituendo i numerini i valori 0 e 1 e facendo lo svolgimento dell'operazione in realtà le cose possono andare anche avanti un pochino più velocemente perché vedo che c'è in entrambi un fattore che è OR NOT A quindi c'è qualche cosa OR NOT A nel primo e qualche cosa altro che sono diversi OR NOT B allora NOT A sempre scusatemi un B tutte le volte che A vale 0 NOT A vale 1 e avere un 1 messo in OR con qualche cosa altro mi dà sempre il risultato uguale 1 quindi io posso già dirti senza fare i calcoli che quando A vale 0 entrambi valgono 1 e quindi mi tolgo il problema quindi l'altro fattore il primo termine dell'espressione che è questo oppure questo entra in gioco solamente quando il secondo termine è 0 perché se il secondo termine è 1 il risultato è sicuramente 1 allora mettiamoci nel caso in cui il secondo termine sia 0 cioè quando A vale 1 invece e allora andiamo a vedere questa parentesi qui è qui in questo caso A vale 1 abbiamo detto in questi altri 4 casi A vale 1 quindi abbiamo 1 OR B per C allora però attenzione anche qua sappiamo che A vale 1 e quindi A vale 1 OR qualche cosa il risultato della parentesi sarà sempre 1 A che vale 1 in questi 4 casi rimanenti OR o qualche cos'altro il risultato vale 1 NOT 1 fa 0 questo NOT A è di nuovo 0 quindi in questo caso in tutti questi 4 casi il fatto stesso che A valga 1 implica che questa parentesi valga 1 e quindi implica che il NOT valga 0 NOT A vale 0 perché siamo nella seconda metà della tabella dove A vale 1 e quindi abbiamo 0 OR 0 che fa 0 quindi la funzione F in queste 4 caselle vale sempre 0 la funzione G siamo nel caso quindi NOT A nelle 4 caselle rimanenti quindi pensiamo 1 0 0 per partire NOT A vale 0 quindi non rompe le scatole A vale 1 quindi A 1 1 AND qualche cosa fa il qualche cosa quindi 1 AND 0 fa 0 1 AND 1 fa 1 quindi in realtà questo è come moltiplicare per 1 non cambia risultato quindi quel che conta è B OR C quindi abbiamo 1 AND B OR C il tutto OR 0 OR 0 non serve a niente AND 1 non serve a niente alla fine rimane B OR C quindi il risultato della funzione G è vero quando O B O C valgono 1 quindi in questo caso no in questo caso sì perché C vale 1 in questo caso sì perché B vale 1 in questo caso sì perché sia B che C valgono 1 quindi riassumendo la funzione F e la funzione G non sono uguali perché ci sono tre casi che sono questi ultimi tre che Marco con l'asterisco nei quali il valore della funzione F e il valore della funzione G se non ho sbagliato i calcoli sono diversi tra tra i due casi e quindi F e G non sono equivalenti poi se fossimo stati fortunati per dire se anziché partire da 0 0 0 fossimo partiti da 1 1 1 avremmo trovato subito come primo risultato una differenza tra F e G ci saremmo potuti fermare lì in realtà ci saremmo già potuti fermare anche qui nel senso che una volta che ho trovato una differenza non mi serve andare avanti perché ho già dimostrato che non sono non sono equivalenti questa è la cosiddetta tabella di verità della funzione booleana cioè tra tutti i valori di verità cioè di 0 1 delle variabili indipendenti ABC faccio la tabella con i valori corrispondenti della funzione quindi anziché un grafico di funzione come si fa con le funzioni reali qui si fa delle tabelle perché ovviamente le variabili indipendenti sono variabili discrete non sono variabili continue quindi assumono solamente alcuni valori ben definiti ok quindi se uno avesse avuto il sospetto dall'inizio che le funzioni non fossero state equivalenti magari poteva andare a cercare ragionando sugli uni sugli zeri un esempio o un controesempio ma quello nel quale abbiamo così avevamo tempo abbiamo preso la via più tranquilla proviamo a fare tutte le combinazioni per ciascuno facciamo il calcolo ok filiamo solo la frase F e G non sono equivalenti perché per alcune combinazioni delle variabili indipendenti ABC il valore delle funzioni il valore calcolato delle funzioni è diverso righe marcate con l'asterisco ok questa è la domanda numero 33 e quindi andiamo a vedere di che cosa ci parla la domanda 32 descrivere il ruolo di instruction register del program counter nelle tre fasi fondamentali dell'esecuzione di un'istruzione da parte della CPU direi che a questa domanda abbiamo già risposto quando parlavamo del ciclo macchina che era essenzialmente la domanda numero 40 dove abbiamo detto bene che cosa fa il program counter e cosa fa il instruction register nell'esecuzione delle istruzioni quindi alla fine la 32 è dello stesso tipo allora andiamo a vedere cosa è la 31 indicare brevemente quali sono le caratteristiche di un moderno computer portatile in termini di velocità di clock memoria RAM hard disk e display questo è 31 quindi moderno pc portatile allora questa è una cosa che essenzialmente è una domanda del tipo sapete come funziona il mondo o meglio avete già visto dei computer in giro per capire un attimo quali sono le caratteristiche perché noi abbiamo studiato l'architettura del calcolatore in senso generale quindi qualunque calcolatore da 50 anni a questa parte da 50 è un po' troppo da 30 anni a questa parte ha una CPU ha delle memoria centrale avrà delle cache avrà dei dischi eccetera eccetera ma avrà una frequenza di clock ma avrà una capienza di memoria ma il valore specifico di queste cose cambia nel tempo sicuramente se io penso che i primi personal computer degli anni 88 89 quando sono arrivati in Italia avevano un clock a 4 MHz adesso abbiamo un clock che sfiora i 4 GHz quindi negli ultimi 25 anni la frequenza di clock è aumentata di circa mille volte quindi ma l'architettura è rimasta grosso modo la stessa quindi i concetti generali continuano a valere questa domanda ci chiede ma ti sei guardato intorno essenzialmente quali valori assumono queste componenti nei computer di oggi allora computer di oggi 31 in termini di velocità di clock memoria RAM hard disk e display allora alla fine abbiamo nel CPU che avranno un clock a una certa velocità dichiariamo quant'è grande la memoria di massa centrale dichiariamo quant'è grande la memoria di massa no di cosa ti parlo la quali velocità della memoria RAM hard disk e display e quant'è risoluto il display allora normalmente pensiamo a un modello diciamo così di medie prestazioni il clock del CPU oggi viaggiano intorno ai 2 3 2 virgola qualcosa 3 virgola qualcosa gigahertz no poi poi di solito si hanno le frequenze più basse per CPU un pochino più lente quindi vanno solo 2.6 2.6 2.2 gigahertz i computer fissi o i portanti più potenti vanno oltre qualcosa della potenza della potenza di calcolo chiaramente una macchina più veloce ha bisogno di un clock più veloce ma anche dal consumo di energia quindi a volte si usa soprattutto nei portatili si usa un clock più basso di quanto potrebbe effettivamente andare il computer addirittura quando voi attaccate la corrente di solito il clock viene accelerato viene messo alla massima velocità mentre quando è andata a batteria il computer automaticamente per risparmiare energia abbassa la frequenza di clock quindi andrà un pochino più lento sicuramente ma ci permette di far durare la batteria più a lungo quindi questi sono gli ordini di grandezza qualche anno fa si era provato anche a realizzare dei calcolatori che andassero oltre i 4 gigahertz ma questo creava tutta una serie di problemi circuitali perché poi con la velocità della luce bisogna fare i conti e per cui di fatto non si è andati avanti all'incremento ulteriore delle velocità di clock qualche anno che siamo fermi su queste frequenze l'evoluzione tecnologica si ha sull'intelligenza di queste CPU sulla quantità di cache sulla quantità di unità metricologiche unità virgola mobile eccetera all'interno dello stesso chip che quindi fanno in modo che a parità di frequenza di clock la CPU vada più veloce perché riesce a fare più operazioni in parallelo sulla memoria centrale se penso un pc moderno diciamo che andiamo dai 16 gigabyte ai 32 gigabyte 16 se proprio vogliamo in qualche modo risparmiare perché al di sotto i sistemi operativi e le applicazioni moderne di fatto cominciano a non avere memoria sufficiente per poter lavorare 32 gigabyte è già oggi una quantità decente per un lavoro normale per un carico di lavoro normale non lo è se dobbiamo fare lavorazioni su grandi quantità di dati in quel caso mi servirebbero decisamente di più ma magari non mi basta quello che c'è su un portatile ecco mi serve un computer fisso se devo fare dei calcoli pesanti sulla memoria di massa normalmente adesso si va diciamo così l'entry level sono 512 gigabyte di disco allo stato solido oppure 1 slash o 2 1 terabyte o 2 terabyte per i modelli più diciamo così di alta fascia e nel caso in cui vado su 1 o 2 terabyte può essere un ssd o in alcuni casi ancora un hard disk tradizionale che ovviamente ha parità di quantità di capacità di capienza costa di meno e quindi può essere giustificabile nel budget complessivo del pc portatile però anche adesso diciamo così gli ssd da 2 terabyte per 200 euro te li porti a casa tutto sommato e nell'economia di un computer portatile ci può stare essenzialmente come investimento i display i display molto spesso abbiamo dei display con risoluzione abbastanza elevata no display in una risoluzione quella che in generale chiamano specie 4k quindi avranno le risoluzioni del tipo non so un 3000 io metto di numero a caso cioè molto tondi 3000 per 2000 una cosa di questo genere io se andassi a vedere la risoluzione che ha questo computer in questo momento fatemi vedere io ho in questo momento voi non li vedete ho due schermi uno schermo che ha una risoluzione dove cavolo sei scritta a esempio io ho uno schermo fisso che ha 2560 per 1440 lo schermo che sto proiettando a voi che sto condividendo a voi in questo momento invece è una risoluzione più bassa che è 1920 per 1080 quindi il minimo praticamente è questo qua per 1080 che è la cosiddetta full HD la dimensione full HD che è quella dei DVD dei film al di sotto dei quali di solito oggi non si scende se si scende al di sotto di questa risoluzione è sui pc più piccoli quindi quelli da 13 pollici dove effettivamente lo schermo è più piccolo quindi si riduce anche il numero di pixel in altezza quindi a volte si arriva fino a 960 pixel in altezza e 1440 in larghezza oppure diciamo così gli schermi 15 pollici di un pc di fascia medio alta andiamo intorno ai 3000 per 2000 pixel una cosa di questo genere quindi andiamo qui ho scritto 4k come ordine di grandezza in realtà 3000 per 2000 farebbe 6 6 6 milioni però il 4k sta a indicare il numero di righe di scansione un'unità di grandezza che non corrisponde esattamente al numero di pixel ma la risoluzione è intorno a questi valori qua dal 2000 per 1000 il full hd è un 2000 per 1000 mal contato chiaramente mal approssimato in su a qualche cosina più in su quindi 2500 per 1500 oppure 3000 per 2000 senza prendere cifre tonde che poi non sono i valori esatti questo in grosso modo se voi fate un giro su un volantino di quelli di supermercati trovate più o meno questi tipi di numeri normalmente nelle offerte trovate il valore basso la fascia bassa di questi numeri invece i calcolatori un pochino più di fascia alta che magari non si trovano proprio al supermercato perché comincerebbe a costare di più hanno i valori invece sulla fascia alta di questi range di cui abbiamo parlato ovviamente questo qua non c'è sulle slide però tutti voi avrete tra le mani avete comprato in qualche momento un computer e quindi cerchiamo di mettere in connessione quello che facciamo nella vita reale con anche un pochino con quello che studiamo allora io chiuderei con la domanda numero 30 sia perché il tempo si sta avvicinando alla fine sia perché le altre 29-28 alla fine sono quasi sempre ripetizioni delle altre e quindi mi fermerei alla domanda numero 30 facciamo ancora questa che è un po' diversa e ci chiede qual è la funzione non è diversa ma è un aspetto che non abbiamo ancora visto qual è la funzione del clock che cos'è il periodo e cos'è la frequenza del clock allora il clock è un segnale di temporizzazione interno all'interno al PC al sistema di elaborazione quindi lui è un segnale periodico periodico quindi lui è sempre fisso normalmente un segnale varia per portare dei dati 0 1 0 1 allora a seconda dei dati che devo portare il segnale sta basso sta basso a 0 oppure va alto a 1 il clock invece non porta nessuna informazione nessun dato e lui quindi oscilla sempre tra 0 1 0 1 0 1 a una frequenza costante il suo scopo è di temporizzare e di fornire la temporizzazione per le diverse diverse attività interne alla CPU soprattutto diciamo che c'è il clock primario che è quello della CPU che è quello più veloce di tutti poi all'interno del calcolatore possono esserci anche dei clock secondari che sono più lenti che ci servono a temporizzare delle componenti che non riescono ad andare ai gigahertz alla velocità della CPU e quindi quando io penso a un'operazione dell'Alu di unità di medicologica un'operazione di fetch un'operazione di execute di unità di controllo penso che queste operazioni alla fine avvengano tutte usando un ciclo di clock un periodo di clock e quindi le varie operazioni il fetch del code executor ad esempio vengono eseguite in tre almeno tre cicli di clock successivi separati l'uno dall'altro e questo modo questo segnale viene mandato a tutte le componenti interessate e quindi ciascuna componente sa quando iniziare l'operazione quando il dato è pronto entro quando deve produrre il risultato e così via quindi temporizzare le attività interne tipicamente i dati vengono letti letti all'inizio di un ciclo di clock e i risultati sono disponibili alla fine del ciclo di clock dati quali ad esempio la decodifica dell'istruzione dati quali ad esempio la somma di numeri interi e cose di questo genere non parliamo di operazioni lente come la lettura della memoria o le operazioni di front in point unit che per loro natura richiedono più cicli di clock questo segnale periodico di tempo regazione è caratterizzato da una frequenza F misurata in megahertz o gigahertz e ora ho da un periodo T che è poi uno su F misurato in microsecondi o anzi nanosecondi quindi l'inverso di un megahertz è un micro uso la U perché non è il simbolo di micro l'inverso di un gigahertz quindi di 10 alla 9 giga è 10 alla meno 9 che è nanosecondi quindi possiamo dire che abbiamo quando parlavamo prima di clock a 3 gigahertz stiamo dicendo alternativamente quando dicevamo che il clock era 2 gigahertz potevamo dire che aveva un periodo di clock questa era la frequenza se la frequenza era dai 2 a 3 gigahertz il periodo di clock nel caso di 2 gigahertz di frequenza io avrò dunque un gigahertz fare un nanosecondo quindi mille microsecondi 500 microsecondi di nanosecondi di tempo di ciclo oppure nel caso di 3 gigahertz avrò circa 333 nanosecondi di tempo di ciclo questo grosso modo facendo l'inversione se non ho sbagliato i calcoli quindi che governa che governa le operazioni interne interne ricordiamoci che il clock va a governare l'interno della CPU non tanto il video o le periferiche o la memoria di massa questi vanno con i loro tempi che sono invece molto più lenti e separati dai primi ci dice qualcosa la funzione del clock è temporizzare le varie componenti cosa si intende per periodo per frequenza del clock è la periodicità appunto di questo segnale che va e viene quindi ad ogni periodo t succede un'operazione nuova e quindi è una cadenza che viene data un orologio chiaramente che viene imposto alle operazioni non c'entra nulla con l'orologio cioè il fatto che il computer sappia che adesso sono le 12.56 non c'entra niente col clock di sistema anche se in inglese clock vuol dire orologio l'orologio il cosiddetto real time clock si chiama RTC nei calcolatori real time clock è quello che misura il tempo reale ti dà l'ora la data eccetera e quello è un componente però separato rispetto al clock di sistema che invece se ne frega abbastanza di quanto sia un secondo reale ma lui va a temporizzare le operazioni di vari componenti e come dicevamo un segnale periodico un po' particolare perché il suo periodo può essere eventualmente governato da delle policy del calcolatore per cui magari nei momenti di maggior carico il computer si aumenta la frequenza di clock e nei periodi invece di minor carico se la diminuisce per risparmiare energia quindi periodico in senso un po' lato non è esattamente matematicamente periodico che da meno infinito più infinito è esattamente sempre la stessa frequenza nello stesso periodo questo periodo può essere aggiustato ma in un certo breve periodo è costante quindi i vari componenti vanno avanti a una certa frequenza fissa quindi se vogliamo aggiungere questa frase che la frequenza di clock può essere aggiustata diciamo così aumentata o diminuita aggiustata e brutto o ridotta in funzione del carico di lavoro del sistema e o della necessità di risparmio energetico ormai tutte le CPU hanno già questa capacità di potersi adattare dei clock variabili va bene io qua mi fermerei mi fermerei qua come primo blocco orario noi abbiamo fatto un po' di esercizi ripassando anche un po' la parte sulle architetture questa è una parte che secondo me si capisce anche meglio risolvendo le domande che non diciamo così studiando solamente la parte di teoria perché abbiamo occasione anche un pochino di più tempo di ragionare sulle sfumature e vedere le stesse cose da punti di vista diversi io adesso a questo punto vi darei e mi darei una pausa di una decina di minuti e poi riprendiamo con la terzo blocco l'ultimo blocco di esercizi in cui invece giocheremo con le domande diciamo di Python o di programmazione da parte di teoria sulla programmazione ok quindi riprenderei a questo punto alle 13.10 adesso lascio la chiamata aperta metto in muto la cosa ci rivediamo tra dieci minuti